Siamo quasi in fase di recupero, Scocca è in pratica in questo momento il 45esimo minuto del primo tempo, sempre sullo 0-0 fra Sambori e Grasoper. In area di rigore anche Viercovo Deferri, la battuta a rientrare, il pallone è alzato nella zona di Invernizzi, di testa Invernizzi, Melli, tiro, gol! E passa la Samp, proprio al 45esimo minuto e 15 secondi con Melli. Intanto gran vento sul campo e anche pioggia, batte Mikhailovic, sinistro, gol! Fantastico gol di Mikhailovic, formidabile gol di Mikhailovic, un giocatore che da questa distanza non perdona. Non è una rimessa lunga come sembrava, Kilian, con i giocatori della Samp su di lui, ottimamente il raddoppio di marcatura, hanno triplicato addirittura i giocatori di Eriksson. Adesso c'è il contropiede, Lombardo, tre giocatori in posizione buona, posizione regolare, Melli, Melli, il pallone che passa, Maspero, gol! Rete di Maspero! E c'è il terzo gol della Samp, è passato questo pallone che ha attraversato tutta l'area della porta, è passato, naturalmente ha tradito anche il portiere Zubermuller, e ha segnato Maspero, senz'altro uno dei migliori in campo. Grazie!